Wabalabadabdab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Samuel Sterna che recensisco questo mese con estremo ritardo per me perché di solito appena esce lo trovo sempre in edicola però questo mese scusate ma l'ho trovato solo pochi giorni fa in edicola quindi ho voluto, già che ero in ritardo, gustarmelo per bene, leggerlo con calma e adesso faccio una recensione comunque a caldo diciamo Samuel Sterna numero 19, i sotterranei di Edimburgo prima di cominciare se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega condividete il video con tutte le persone che vogliono sfondare come attori e commentate qui sotto con quello che viene parso di questo numero e in generale di come sta andando Samuel Sterna secondo voi Samuel Sterna, i sotterranei di Edimburgo sceneggiato dalla Trinità Filadoro Fumasoli Saveniago e disegnato da Antonio Milinaric leggo scusate perché così non sbaglio o sbaglio meno quantomeno devo dire che questo numero mi aveva dato queste sensazioni quando ho visto la copertina innanzitutto ho pensato, ho quasi temuto che fosse un po' un numero prequel che parlasse della storia di Edimburgo e di come si integrasse in quello che è l'universo sterniano e cosa che ci avrebbe un pochino fatto deviare dal percorso di Samuel Sterna per un mese oltre al fatto che in questo periodo è uscito anche i racconti del Daryling che ho recensito, vi metto qua nelle schede in descrizione dove già ci si discosta diciamo dalla storia principale di Samuel Sterna per parlare dell'universo sterniano espanso invece no, mi sbagliavo semplicemente i sotterrani di Edimburgo racconta una storia molto personale che si interseca anche con il passato locale di Edimburgo ma principalmente come nella saga principale di Samuel Sterna ci si focalizza sul protagonista ho anche temuto guardando le recensioni degli altri colleghi che questo numero fosse troppo difficile che fosse inutilmente complicato e mi ha fatto venire in mente un altro numero che non mi era piaciuto molto che era, se non sbaglio, quello un po' alla Shining adesso non mi ricordo il nome magari scrivetemelo voi in descrizione che non mi aveva lasciato tantissimo specie perché era il numero 10 e mi aspettavo quasi una conclusione di un cerchio che invece non c'era stata era un numero abbastanza indipendente quindi non mi era piaciuto anche nel contesto in cui era stato lanciato editorialmente e avevo lo stesso timore per questo numero invece devo dire che quando l'ho letto nonostante appunto non avessi hype questo mese non avevo hype perché appunto l'ho trovato in ritardo non ne ho potuto parlare subito avevo tutte queste voci nella testa e invece devo dire che Samuel Sterna è sempre come un vecchio amico un caro vecchio amico che anche se non lo vedi non lo senti da tanto tempo appena lo rivedi appena riprendi in mano il fumetto e leggi le prime pagine è come se non lo avessi mai lasciato questa sensazione è una sensazione che trovo raramente in un fumetto e ne sono molto contento non importa il mood che ho non importa l'hype che ho o non ho sul prossimo fumetto che viene quando lo riprendo in mano rientro subito in questo magico mondo tra l'altro è anche forse una delle prime volte che leggo capendo completamente gli appunti del Daryland quindi festeggiamo non ho qui una bottiglia di champagne complimenti ad Angus che è riuscito a entrarmi nella coscienza finalmente sono riuscito finalmente a interpretarlo Samuel Sterna è un vecchio amico per me ma non sono il suo unico vecchio amico a quanto pare in questo numero viene introdotto Alan vecchio amico che non avevamo mai sentito parlare ma ci sta di Samuel Sterna con cui hanno un passato in comune un passato non proprio rosio che però Alan pare nascondere sotto il tappeto inizialmente Alan potremmo dipingerlo come una sorta di Joy Tribiani di Samuel Sterna ovvero un attore che cerca tuttora di sfondare nei suoi 30 anni ma si limita a fare piccolissime parti come per esempio quella del Ghost Tour dei sotterranei di Edimburgo a detta sua un eterno sognatore a detta delle persone che gli stanno intorno invece un fallimento un fallito un perdente diciamo che nessuno lo incoraggia in questa sua ricerca della felicità in questo suo sogno di diventare attore pare che inconsciamente lui stesso si sia come appunto gli dice il suo capo lui stesso si sia abituato al fallimento questo numero parla di inferni personali inferni al plurale perché come spiega molto bene Angus l'inferno di per sé potrebbe non esistere noi abbiamo visto che in questo universo sterniano c'è legione che è come se fosse l'inferno dei demoni ma l'inferno umano nessuno lo ha mai nominato e Angus sostiene che non esiste l'inferno esistono gli inferni ognuno vive un proprio inferno personale l'inferno non è necessariamente un luogo fisico ma è uno stato uno stato della coscienza uno stato mentale uno stato dell'animo se vogliamo dell'anima che ognuno vive anche nella vita presente come è il caso appunto di Alan che dietro a un suo sorriso da attore un sorriso finto costruito si cela un sacco di tristezza e forse anche qualcosa di più orrendo badate bene il fatto che gli inferni personali degli esseri umani siano appunto degli stati della coscienza non esulano dal fatto che possano essere anche luoghi fisici e visitabili da persone come Samuel come abbiamo visto nel numero il regno il fatto stesso che il regno sia un luogo della coscienza non significa che non sia anche un luogo fisico e diciamo registrabile su videocamera nel caso del regno quindi qua più o meno è la stessa cosa anche se ognuno ha il suo inferno personale ciò nonostante sono sia luoghi psichici che fisici mi è ricordato molto sempre a me torna sempre alla mente il discorso che hanno fatto nella stagione 2 di Angel che l'inferno non è per forza qualcosa al centro della Terra ma è un luogo che viviamo tutti i giorni in Angel parlavano che l'inferno fosse la Terra stessa e in un certo senso Alan sta vivendo questo inferno sulla Terra la storia di Alan è anche disagiante per noi lettori da vedere lo vediamo continuamente vessato persino da una bambina di 7 anni dal proprio capo dal proprio datore di lavoro ma anche dalla stessa fidanzata Crystal che si vede è palese che lo stia tradendo con il suo amico Daniel di fronte ai suoi stessi occhi di fronte agli occhi di Alan di fronte agli occhi di Samuel ma anche di fronte a noi lettori è umiliante perché vediamo viviamo un po' la sensazione che sta vivendo Alan in questo fumetto e capiamo che tutti questi sono piccoli tasselli che lo porteranno a un crollo devastante lo stesso Samuel Stern in passato pare aver avuto una tresca con Crystal all'inizio della loro relazione della relazione tra Alan e Crystal ed è per questo che Alan nonostante sia molto amico di Samuel si sia segnato questa cosa e questa cosa lo abbia segnato profondamente dentro insieme a tante altre cose che hanno generato la sua ombra il suo demone la Trinità Sterniana ci conferma che ci sono mille modi per raccontare una storia e questo è un esempio lampante perché a differenza delle altre storie dove Samuel solitamente estrae fa un piccolo viaggetto nell'anima del posseduto estrae il demone e lo combatte e qua invece vediamo un continuo immergersi non solo nell'anima di Alan ma anche nel suo inferno personale proprio perché Alan è ormai ha vissuto diciamo è pervaso da questo ghost tour dei sotterranei di Edimburgo ne è rimasto molto contagiato in un certo senso e quindi la storia l'essenza di quel luogo le anime morte in quel luogo si sono un po' mischiate al suo stato di coscienza al suo inferno personale quindi noi vediamo Alan vivere quasi meglio nel suo inferno che nemmeno nella realtà dove tutti lo maltrattano questo può essere un esempio una metafora di molte cose che accadono nella vita reale di molte persone che vivono il proprio inferno personale nella vita reale come per esempio banalmente le persone che si tuffano nell'alcolismo le persone che si tuffano in una qualunque dipendenza le persone che si tuffano nella depressione le persone che non escono più di casa che in giapponese chiamano i kikomori correggetemi se sbaglio ognuno ognuno molte persone preferiscono il proprio inferno alla vita nel mondo esterno e perché perché questo inferno a volte è una coperta di linus è un luogo che ci tiene al sicuro perché è un luogo che anche se ci porterà alla dannazione se ci porterà all'isolamento a non essere più del tutto umani perché quando siamo umani siamo umani nella misura in cui ci confrontiamo con l'altro nel momento in cui saremo completamente isolati nel nostro mondo in un certo senso perderemo un pochino di umanità e molte persone preferiscono questa via perché li tiene al sicuro in questo momento nel tempo presente le matite di Milineric sono fantastiche sono volutamente sporche quando raccontano del passato quando raccontano dei sotterranei di Edimburgo come se ci sia stata la peste diciamo nelle sue chine nelle sue matite mentre il suo tratto si pulisce quando deve rappresentare Samuel quando deve rappresentare la vita reale per così dire questa cosa mi è piaciuta tantissimo è anche forse uno dei pochissimi numeri dove ci sono delle conseguenze pesanti reali ovvero dove il protagonista comunque incide pesantemente sulla vita delle persone attorno a lui dove il protagonista in un certo senso uccide ammazza mutila le persone care a lui a causa di questa possessione a causa di questo inferno personale non so se è successo in altri numeri che delle persone siano state ammazzate e fossero persone appunto vicine ai protagonisti sì ci sono state delle vittime quello sì però non ricordo se a parte la vittima a parte il posseduto stesso ci siano state delle vittime vicine scrivetemelo qua sotto perché inizia un po' a perdere colpi diciamo i numeri iniziano a essere tanti e vediamo anche queste menomazioni queste mutilazioni verso i cari attorno a Alan rappresentate in un modo eccelso uno splatter che è dosatissimo nel senso che non lo vediamo in ogni numero ma quando c'è colpisce duro e mi è piaciuto davvero tanto un impatto del genere un paio di plot twist che mi sono piaciuti uno non assolutamente inedito è perché diciamo il parente che c'è ma in realtà lo avevamo già visto e lo avevo diciamo era un po' telefonata lo avevo sospettato l'altro plot twist proprio sul finale è stato davvero coinvolgente ci ha lasciato così ai confini della realtà per così dire sono davvero entusiasta di questo numero devo dirlo proprio quando si inizia a pensare che questa questa piccola avventura sterniana non possa più offrire degli spunti che già non ci hanno detto nei numeri precedenti ecco che ci sorprende e questa cosa mi ha soddisfatto mi ha dato di nuovo speranza non che l'avessi persa diciamo però anche alla luce del fatto che la distinta concorrenza sta recuperando terreno si inizia magari a buttare di nuovo più un occhio di riguardo sul sull'indagatore che c'è in giro da più tempo e quindi qua magari si tenta di si ha un diciamo un occhio di minor riguardo nei confronti di una serie così piccolina invece devo dire che sta davvero tenendo botta e sta crescendo sempre di più spero di vedere e di trovare lo stesso entusiasmo anche nel prossimo numero la casa dei sospiri però come ho detto all'inizio non voglio darmi hype perché l'hype è una è comunque un'arma doppio taglio e preferisco tra un mese ritrovare il mio caro amico Samuel Sterni in edicole e riabbracciarlo come l'ho riabbracciato questo mese fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero se è uno dei numeri che vi è piaciuto di più oppure se è uno dei numeri che non vi è entusiasmato più di tanto e perché perché no scrivetemelo qua sotto nei commenti di che ne parliamo io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video grazie a tutti